Decimo municipio all'estate non ferma i cantieri. Nei giorni scorsi l'amministrazione locale ha avviato i lavori di manutenzione stradale su Via dei Romagnoli per un intervento che migliorerà l'assetto viario di un'arteria che da tempo necessitava di essere sistemata. Il tratto di Via dei Romagnoli che stiamo rifacendo da Via delle Calle a Via Maspero. Io sottolineo che questo è un tratto di strada molto importante, ovviamente, molto trafficato, che i cittadini aspettavano. Questi lavori sono già iniziati? Hai idea di quando finiranno? Allora, questi lavori sono iniziati e verranno effettuati di notte. Sono 3,7 km di strade. Alcuni tratti, ovviamente, già sono stati rifatti, per cui l'andremo a fare quasi tutta. Chiaramente la nostra intenzione è finire il prima possibile, perché è ovvio che si deve regare il meno danno possibile ai cittadini e arrivare al risultato il prima possibile. Estate di cantieri e lavori, anche per altre arterie del Decimo. Stiamo per avviare i lavori alla stazione di Lido Centro e anche via Lucio Lepidio. In questo momento si stanno rifacendo i marciapiedi, gli scivoli in quella zona. Dopodiché via di Dragoncello dovrebbe partire, via Ponte Ladrone, via Funi. Ce ne sono parecchi. Naturalmente sono un po' a rilento, perché con il Covid tutti gli uffici hanno avuto lo smart working. Le stesse ditte che dovevano operare sul territorio avevano gli operai a casa. Naturalmente, diciamo che nell'ipotesi dei sei mesi siamo passati anche più di un anno. Però è una primavera, un'estate ormai anomala, perché di solito noi siamo abituati a vedere la città che si ferma d'estate, invece voi non vi state fermando. No, anche perché appunto dobbiamo recuperare i tempi che naturalmente non si è potuto operare sul territorio.